benvenuti ragazzi in questo nuovo video esplorazione questo è il secondo video esplorazione del 2023 e la nostra socia del canale vi saluta Jesse Rank ovviamente Asia Pancotti la nostra esploratrice oggi non c'è perché non sta tanto bene quindi andremo esplorazione a droga solo ovviamente ci sarà qualcuno la che farà delle foto così dei fotografi che sono urbex anche loro non fanno video ma fanno fotografie vi lascio qua anche i loro post e lascio qua e qua niente noi ci troviamo la alle 10 e mezza dovremmo essere la alla loggia perché questa famosa villa conchiglia così chiamata che la villa carpenetto che situata la loggia in provincia di torino niente vi leggo la storia quindi villa carpenetto è una residenza nobile d'aspetto barocco e neoclassico innestata su un preesistente castello medievale che si ritiene appartenuto alla famiglia vagnone di trofano trofare trofarello il primo rifacimento della dimora risale al tempo di gas per graneri natural al anzo nelle 1596 che sia distinto al servizio della corte sabauda assurgendo alla carica di generalissimo delle finanze e affermandosi come una delle personalità politiche più in vista del seicento piemontese pochi anni prima di morire fondò l'eremo camaldolese di lanzo meritatissimo per questa e altre iniziative benefiche l'appellativo di padre dei poveri quindi questa è la breve storia che ho trovato su questa villa noi ci troveremo la buona visione eccoci qua arrivati eccoci dentro qui c'è già una macchina distrutta demolita qui ci sono gli attrezzi dentro delle cose ci incamminiamo verso la villa famosa guardate com'è immensa sta villa spettacolare c'è anche la chiesa se riusciamo entriamo anche nella chiesa qua dove si entra chi dite andiamo di lì e andiamo di qua andiamo caso andiamo andiamo Sì 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 Qui c'è un cammino Sì 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 Grazie. Guardate com'è messa, che spettacolo. Facciamo qualche video. Grazie. Questa è la famosa entrata. Vi faccio vedere, col cellulare, qualcosa. Guardate che spettacolo, il soffitto. vendo? Spettacolo. 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 bella chiesa quella guardate che spettacolo bellissimo ecco la chiesa che spettacolo spettacolo ecco la chiesa che spettacolo ecco la chiesa ecco la chiesa ecco la chiesa ecco la chiesa nel bagno 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 Grazie a tutti.